Un sogno in via Olmetto Aperta la raccolta fondi per realizzare un nuovo progetto di autonomia abitativa ad Esio. L'iniziativa nasce dalla volontà di nove cittadini disabili che vorrebbero realizzare il sogno di vivere in autonomia negli spazi di corte Olmetto. Si tratta di due appartamenti messi a disposizione dal comune e riqualificati grazie ai fondi del PNRR. Le due abitazioni sono pensate per ospitare 6 e 3 persone, verranno personalizzate e dotate di strumenti e tecnologie domotiche. Inoltre si prospetta l'attivazione di sostegni educativi a domicilio e un percorso di inclusione sociolavorativa per ciascun abitante. Sono previsti percorsi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali utili alla vita quotidiana, alla ricerca attiva del lavoro e se richiesto al lavoro a distanza. Coloro che prenderanno parte al progetto hanno un'età compresa fra i 22 e 49 anni e provengono da diversi comuni dell'ambito di Desio. La raccolta fondi, avviata dall'azienda speciale Consorzio Desio Brianza e dalla rete Tiki Taka con il supporto della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, è finalizzata all'acquisto di utensili, biancheria e oggetti per la casa, indispensabili nella vita di tutti i giorni. Questa progettualità non si esaurirà con i nuovi beneficiari che verranno inseriti negli appartamenti, spiegano i promotori dell'iniziativa. L'obiettivo, infatti, è anche quello di far crescere sul territorio dell'ambito di Desio il maggior numero di esperienze simili, che possano consentire anche ad altre persone con disabilità di vivere la quotidianità nel tessuto cittadino, dando il proprio contributo nella cura delle relazioni di buon vicinato e nella collaborazione alla vita attiva dei quartieri, fino a diventare per tutti uno stimolo nella costruzione di rapporti orientati all'interesse comune. Per sostenere l'iniziativa www.fondazionemonzaabrianza.org